Pai, 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 i giorni torano confusi, rinquetti come mosche a tavola, domani e festa e tutto il paese già preme per la processione. Signora, sia generosa, i santi martiri gioiranno in cambio di qualcosa. Il meteo informa che quest'anno primavera tarderà, è una sciocura per le mie rose e questa perturbazione atlantica. Signora, abbia pazienza, le piante non hanno fretta o scadenza, è solo questione di poche settimane, perché temere che non possano sbocciare. In questa attesa interminabile, di ore introvviglianti incerti, un'improvvisa ondata di rondini, disegna voli strabilianti, se chiudo gli occhi aperto, un caldo addrito, il sole maggio non è stato mai così vicino. Sia dolce o amara, pesa mia generale, combatterò il tuo fianco. Signora, abbia pazienza, le piante non hanno fretta o scadenza, è solo questione di poche settimane, perché temere che non possano sbocciare. In questa attesa interminabile, di ore introvviglianti incerte, un'improvvisa ondata di rondini, disegna voli strabilianti, se chiudo gli occhi aperto. Ho già spezzato il fiato e ricomincio a respirare senza sforzo e senza affanno. Il mai teo informa che quest'anno primavera tarderà. Grazie 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 Grazie